È stato un'etapa veramente dura, la salita ha stato incredibile, il mio equippo è stato eccellente fino a che abbiamo permesso una fuga e sono contento, le differenze con il resto dei favoriti sono uguali ma con Uran che è veramente forte incontrato e l'abbiamo distanziato, io credo che è stato un buon giorno per noi. Rigoberto è un grandissimo corridore, ha già fatto due volte al secondo al giro, quindi non lo reputo fuori classifica anzi bisogna sempre stare attenti a tutti.